Buongiorno, benvenuti alla testata di venerdì 3 aprile. Iniziamo con la lettura delle notizie che riguardano Bari e provincia. Lo facciamo come sempre con LiveNetwork.it direttamente dalla nostra redazione di OTV canale 649 del Digitale Terrestre. Apriamo con Altamura, Federico su 2015, ecco lo spot del video ufficiale. Quindi l'attesissimo spot ufficiale dell'edizione 2015 della festa medievale di Altamura. Terlizzi, un'auto con 5 giovani a bordo, si schianta contro le recinzioni del sovrappasso di via Mazzini a Terlizzi. Le foto per chi volesse avere un dossier, un approfondimento. Alla guida un giovane neopatentato che in uscita dalla rotatoria, che immette poi sul sovrappasso di via di Terlizzi, ha perso il controllo del veicolo, ovvero una panda vecchio modello, squarciando le barriere metalliche che sporgono sul sovrappasso. Andrea parcheggia a pagamento le modalità di utilizzo del nuovo servizio. Presentate oggi le novità in tema di mobilità cittadina. Barletta, via Alvisi, in seguimento ad alta velocità con incidente, però non ci sarebbero feriti gravi. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 22.45. Santeramo in Colle, crollo di parte di un balcone a causa dell'urto di un camion. Vediamo qui nel riquadro, l'accaduto ha provocato la caduta di alcuni pezzi di balcone e anche dei relativi vasi. Danni per l'immobile di via Catterina. Bisceglie la scelta, cronaca di un successo annunciato. L'evento che è accaduto due sere fa ha catalizzato l'attenzione di tutti i biscegliesi. Anche in questo caso foto e video su livenetwork.it. Terminiamo con questa notizia che riguarda Molfetta, Settimana Santa, immagini della processione dei misteri e dei sepolcri. Le foto scattate nelle chiese cittadine, le statue anche uscite dalla chiesa di Santo Stefano. Ebbene con questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione. A proposito di Settimana Santa, vi ricordo che su www.iotv.tv o sul canale 649 del Digitale Terrestre, quindi su IOTV, avrete la diretta anche della Settimana Santa Tarantina fino a domani, quindi alle 7.30 con il rientro delle statue alla chiesa del Carmine. Ebbene io vi ringrazio e vi faccio gli auguri da parte della redazione di OTV per una felice Pasqua e noi ci vediamo la prossima settimana. A presto!